Ma perchè c'è toni che si trovera la maschera? Per cantolare come io Ciao ragazze, eccomi ritornata con un nuovo video Oggi sono qui con la mia amica Serena Ciao ragazze Ho realizzato su di lei questo make-up sui toni del rosa Per risaltare appunto il colore verde dei suoi occhi In realtà un colore dei occhi particolare Cioè il verde e il giallo Ho lasciato appunto le labbra nude Perchè volevo puntare più sugli occhi Visto che il make-up occhi è abbastanza intenso E niente, noi vi lasciamo il video Vi vedrete Serena in altri video Almeno lo spero Ehm... Vi sento Noi mandiamo un bacio Ciao Noi mandiamo un bacio 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 Oh, on we'll go Oh, 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 oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest No, no, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song Sous-titrage ST' 501 ...